benvenuti al progetto art school svolgeremo un esercizio teatrale chiamato prendi l'iniziativa l'iniziativa è la capacità di riconoscere qualcosa che deve essere fatto e farsi avanti per farlo avere spirito di iniziativa dimostra ambizione consapevolezza di sé efficienza tutte caratteristiche che andremo ad allenare con questo esercizio ci sono molti modi di prendere l'iniziativa e possiamo migliorarli attraverso l'improvvisazione questa forma di teatro cioè l'improvvisazione è quando quello che andremo ad eseguire non è pianificato ma creato spontaneamente al momento quindi eseguire esercizi di improvvisazione è un buon allenamento per imparare a saper prendere l'iniziativa ecco uno dei tanti esercizi di improvvisazione da fare in gruppo ognuno si accovaccia sul pavimento e immagina di essere un chicco di una pannocchia di mais e il pavimento è una padella man mano che la padella aumenta di temperatura ogni partecipante incomincia a saltellare come fosse un pop corn che scoppietta ognuno deve fare uno o più salti nel modo e nel momento che ritiene opportuno senza consultarsi con gli altri compagni ma facendo in modo che lo scoppiettio sia svolto in modo armonioso con il resto del gruppo buon divertimento e continuo a seguirci su art school punto e un Grazie a tutti.